Ciao a tutti da AC News! Vediamo il trailer di Amici miei come tutto abbia inizio, subito dopo le notizie di oggi. Sir Giulia, è arrivato un altro orfanello, vai a pigliarlo, vai! Questa l'ha una in vendita, l'è troppo pericolosa! Perché? Che l'ha fatto? Il padrone precedente l'ha tagliato l'uccello! La compro! Brutto bucaiolo, non ti sei aiutare a comprarla! La schiava, lei di tutti! Oh! Jacopo, ma che sei buco? Buco? Sodomita! Aiutatemi amici! E c'è un equivoco, è un nè sodomita! Diteglielo anche voi! Vergogna su dicione! Allora, Yomo, godetevi la partita! Quando tu fai? È cominciata ora! Apposta! Il legnaiolo l'ha impegnato! Ma che ti trovi la moglie dell'Alderighi? Apri testa! Puoi venire il marito? O chi c'è a casa mia? Casa tua! Questa non è casa mia! Tu sei Matteo Cervelloni! Io non sono Matteo, io sono gli Alderighi, il legnaiolo! Guardate che se il legnaiolo rimane a Firenze, prima o poi, la verità la viene fuori! E quello m'ammazza! M'ammazza! Ti preoccupare te, stai difendo io! Sicuro? A te ti ammazzare per primo! Oh Savonarola! Morire è andare all'inferno per una trombata! A beffa come la vostra, vale la pena portarla avanti! Merita coronarla degnamente! Diretto da Neri Parenti e interpretato da Cristian De Sica, Michele Placido, Giorgio Panariello, Paolo Endel e Massimo Ghini, Amici Miei Come Tutto e Benizio è ambientato nella Firenze del Quattrocento, alla corte di Lorenzo De Milci. Ispirato alla grande saga di Mario Monicelli, il film racconta le bravate e gli scherzi di un gruppo di amici che lotta contro la drammaticità della vita quotidiana con un umorismo spesso cinico. Il film esce nelle nostre sale il 16 di marzo. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News!